Preghiera a Dio per chiedere aiuto nelle avversità della vita. Mi rifugio nelle Tue mani, Signore, con la certezza che Ti prendi cura di me e mi proteggi. Non importa quanto grandi siano le avversità che devo affrontare, perché il Tuo amore è così grande che per Te non ci sono impossibilità. Mio Dio, Ti ringrazio, Padre mio, per l'immenso amore che hai per me e che impregni in ogni cosa, per il Tuo caldo rifugio nei miei dolori, per essere la mia luce nelle tenebre e la mia spada nelle battaglie. Confida in Te, amato Padre, perché la mia mano è sempre Tua, mio Signore, Dio altissimo di tutta la creazione, in cui credo, spero e amo sopra ogni cosa, e che mi pesa con grande dolore per aver offeso. Ti offro, Signore, attraverso il Cuore Immacolato di Maria, tutte le opere e le sofferenze di questo giorno, e di tutti i giorni della mia vita, per riparare i miei peccati e la conversione dei peccatori. Ti prego, Vergine Santissima di Fatima, aiutami nei momenti difficili della tentazione, e nell'ora della mia morte, affinché possa godere con Te delle delizie del cielo. Fai la richiesta che ti serve qui. O mio Gesù, aiuta i Tuoi poveri figli, che sono ciechi alla Tua promessa di salvezza. Ti prego, con l'aiuto delle mie preghiere e sofferenze, di aprire gli occhi ai non credenti, affinché possano vedere il Tuo tenero amore, e correre tra le Tue sacre braccia per protezione. Aiutali a vedere la verità, e cercare il perdono per tutti i loro peccati, in modo che possano essere salvati, ed essere i primi ad entrare alle porte del nuovo paradiso. Chiedo queste povere anime, compresi uomini, donne e bambini, e vi chiedo per favore di assolverli dai loro peccati. Lodato e benedetto sei Tu mio Dio, così come il Tuo amato Figlio Gesù, e lo Spirito Santo. Amen. Fare la preghiera per nove giorni consecutivi.